e ciao a tutti qui da abel afc in questo video andiamo a vedere insieme le squadre della lega fantacalcio youtube italia questa lega tra youtuber stata fatta ieri durata circa nove ore pensate otto ore e mezza di di aste poi dopo dei consigli anche sui calciatori vi farò la valutazione completa di tutte le rose e anche il perché ho scelto questi calciatori questo video secondo me è molto interessante perché così date un'occhiata alle nostre rose e potete prendere spunto per le vostre aste di fantacalcio secondo me questa lega è molto combattuta nel senso che le squadre più o meno sono dello stesso livello è stata un'asta fantastica spettacolare ci siamo divertiti molto e per chi la vuole vedere è registrata giustamente nel canale di fantagol che ha organizzato il tutto ma prima di partire mi raccomando iscriviti al canale lascia nei commenti qui sotto cosa ne pensi di queste squadre delle mie scelte e delle scelte dei nostri cari avversari vai a vedere dal link descrizione fantacalcio pro e lasciaci anche un bel like aiutaci a crescere e vai a vedere anche l'abbonamento vip qui sul canale e la prima squadra è quella di nico forza che ha preso in porta per in a 9 scesne a 46 scorubschi a 9 sulla scelta dei portieri secondo me ha fatto molto bene perché ha speso il giusto per portieri comunque molto validi prendendo la porta della juventus quindi ci sta tutto scesa 46 e per in a 9 anche scorubschi e della bologna a 9 secondo me è il prezzo giusto anzi ha fatto anche molto bene secondo me partiamo con i difensori Dodò, Tomori, Kim, Rachmani, Mancini, Ranocchia, Zima e Ceccherini volevo prendere Dodò non volevo spendere più di 20 quindi ho lasciato a lui e secondo me è un'ottima scommessa perché è un calciatore che può portare molti bonus è un vero pendolino lì sulla sulla corsia a destra Tomori ti dà sicurezza, Kim è una scommessa e qui secondo me poteva spendere un po' meno per Kim Rachmani 19 va benissimo, Mancini lo stesso, Ranocchia 2 è sempre una scommessa però è uno che comunque ha giocato molte stagioni serie A a esperienza quindi secondo me come ultime slot appunto va più che bene e Zima e Ceccherini a 3 a 1 va molto bene quindi fino adesso secondo me nico ha fatto grandissimi acquisti centro campo Pogba 31, Candreva 25, Wijnaldur, Pessina, Locatelli, Marcos Antonio e Matic e El Sharawi Pogba come sappiamo è infortunato forse avrei speso un po' meno per Pogba perché è una grossa scommessa visto che inizierà il campionato in panchina anzi in panchina non sarà proprio disponibile e chissà dopo come farà quindi forse 31 io avrei speso un po' meno ma Pogba rimane comunque un ottimo calciatore un calciatore sicuramente da prendere a fronte a calcio Candreva 25 forse anche qui leggermente sopra la cifra giusta perché va a giocare a Salernitana è vero che sarà titolare e farà secondo me qualche bonus però non è da 25 crediti Wijnaldur 30 ci sta tutto anche se è un calciatore che secondo me non farà così tanti bonus perché non è un giocatore offensivo Pessina a 16 questo secondo me è un ottimo acquisto perché Pessina al Monza a casa sua secondo me farà molto bene e questa è una scommessa che non è una scommessa cioè Pessina comunque ha esperienza in serie A e a 16 è un ottimo acquisto Locatelli a 26 ci può stare Marcos Antonio lo volevo prendere ma ha preso lui a 3 non potevo più a stare diciamo in quel momento specifico aspettavo il momento giusto per prendere l'ultimo cacciatore a 1 quindi ho lasciato a lui Matici a 1 è un colpo fantastico perché è vero che Matici non è un cacciatore da bonus ma è un cacciatore molto importante e a 1 è un affare clamoroso El Sharao a 1 pure è una scommessina e a 1 ci può stare alla grande poi ha preso Dybala, Di Maria, Alvarez, Simeone, Lammers e Pettania in attacco e anche qui c'è poco da dire Dybala sarà un cacciatore importante per la Roma sarà titolare forse 100 non lo so però le cifre che sono uscite comunque sono state clamorose per esempio Immobile a 202 Raffaele a 90, Osimena a 119, cioè ci sono state delle cifre molto elevate, molto alte perciò Dybala a 100 per questa asta qui ci può stare, ci può stare molto bene Di Maria a 24 un colpo fantastico non so come sono riusciti a lasciarlo a 24 in quel momento non c'era già più perché poi vi spiegherò questo facendo la squadra con Burchiano a 92 quindi in quel momento dell'asta Di Maria a 24 è un ottimo colpo Alvarez del Sassuolo, un neoacquisto che arriva dalla Sud America è un cacciatore veramente interessante che volevo puntare infatti avevo lasciato a Burchiano il commessaggio ma a quel punto l'avevano già preso purtroppo Simeone a 18 anche qui lui cambierà squadra in Serie A ed è un ottimo colpo a 18, cioè Nico ha fatto dei colpi mirati, precisi, eccezionali complimenti a Nico Lammers a 3 pure perché adesso arrivi in Italia Lammers e di ritorno in Italia e farà secondo me bene e per Taglia a 4 è un altro colpo interessante perché da quello che so va al Monza e giocherà titolare al Monza quindi è un titolare a 4 come ultima slot è eccezionale cioè Nico ha fatto una squadra veramente forte e secondo me è una delle squadre più forti della Lega la nostra squadra invece Abel, AFC e Burchiano l'ho rinominata AFC Burchiana per essere più semplici abbiamo preso Silvestri, Consigli e Pegolo in porta qui diciamo che ho speso un po' troppo secondo me per Consigli la nostra porta non è eccezionale, devo dire la verità ma sono partiti gli altri con delle cifre assurde e quindi ho pensato non voglio spendere così tanto per i portieri perché hanno preso, faccio un esempio, Magna a 65, Andano a 50 e la mia strategia non andava bene spendere più di 30-35 per un portiere perciò ho scelto Consigli come primo portiere più forte a 31 ma secondo me 31 è un po' tanto poteva aspettare ancora e prenderlo a molto meno Silvestri 13 ci può stare alla grande perché è titolare e Pegolo come secondo di Consigli ma Pegolo è giusto per riempire una slot comunque ce l'abbiamo lì difensore abbiamo preso Lazzari Birindelli a 12 Florenza a 15 Danilo a 18 Alexandro a 3 Lazzaro o Lazzaro a 2 Isai a 1 e Marusic a 6 Lazzari secondo me è un colpo molto molto interessante perché Lazzari viene da stagioni dove non ha giocato tanto bene Nella Lazio non ha brillato come ci si aspettava ma in questa stagione farà Damati secondo me e anche secondo Burchiano perciò abbiamo fatto secondo me un colpo a 26 molto bene sono molto contento di questo colpo e pochi l'hanno capito questo colpo ancora però Lazzari ci punto molto in questa stagione infatti ci siamo diti subito io e Burchiano puntiamo su Lazzari che farà molti bonus Birindelli a 12 troppo ho speso troppo per il Birindelli all'inizio potevo aspettare e prenderlo a molto molto meno qui ho sbagliato perché Birindelli poteva uscire a 5-6 rimane comunque un centrocampista perché nel Monza giocherà al centrocampo però a 12 visto le altre cifre degli altri difensori potevo prenderlo a meno Florenzi invece anche qui è una tra virgoletta scommessa potevo anche su di lui spenderci un po' meno Danilo 18 ci dà costanza, regolarità da quello che mi risulta a livello fisico sta bene quindi abbiamo sulla corsia a destra il terzino della Juve e Alessandro 3 secondo me è un colpo eccezionale perché è vero che Alessandro ci sono voci di mercato forse andrà via ma intanto recupererò i crediti se va via all'estero se rimane in Italia sarà titolare penso in qualsiasi altra squadra e da quello che mi risulta secondo me rimane alla Juve sarà il terzino sinistro della Juve e quindi hai il terzino sinistro della Juve comunque a 3 che è una delle big in Italia per questo credo che sia un colpo eccezionale Alessandro a 3 Lazaro una grossa scommessa a 2 penso che sarà titolare nel Torino staremo a vedere ma Lazaro come difensore che giocherà poi potenzialmente al centrocampo va più che bene Isai a 1 visto che abbiamo comunque Marusic abbiamo preso Marusic dopo a 6 sulle corsie della Lazio abbiamo tutti i calciatori e puntiamo sulla Lazio perché secondo me la Lazio è una di quelle squadre che fa sì che anche i difensori possano fare molti bonus e quindi abbiamo preso anche Marusic a 6 poi abbiamo preso al centrocampo Kovalenko a 6 Ciananoglo a 48 Cavrazveglia non so mai pronunciare il suo nome a 47 Adli 16 Duncan 1 Aslani 2 Verdi 1 e Giuricic a 2 Kovalenko secondo me a 6 va più che bene Ciananoglo a 48 molti hanno criticato non capisco il perché Ciananoglo farà molti bonus gioca all'Inter e anche Karasveglia è un giocatore che a Napoli già ha iniziato a segnare nelle partite precampionato secondo me sarà titolare proprio in attacco addirittura batterà qualche anche calcio di rigore batterà qualche punizione comunque è sempre presente perciò questo qui per me non è una vera scommessa ma è un calciatore che farà molto bene a 47 ci può stare alla grande e Ciananoglo a 48 secondo me vedendo anche le altre cifre degli altri calciatori è un ottimo acquisto non capisco le critiche poi mi raccomando lasciate un commento qui sotto Adli come scommesso dal Milan nel precampionato ha fatto molto bene e lo conosco già da un po' tanto è che ho fatto un video su di lui qui sul canale a 16 e alla grande Duncan è un calciatore che sicuramente lo rivendiamo qui nel calciomercato di riparazione molto probabile però a 1 va più che bene perché potenzialmente potrebbe giocare molte partite comunque con la Fiorentina Aslani scommessa a 2 dell'Inter Verdi a 1 è un colpaccio vi spiego il perché perché andrà in un'altra squadra di Serie A non rimarrà al Torino se rimarrà al Torino avrà è vero poco spazio ma secondo me andrà in un'altra squadra di Serie A e sarà titolare quindi a 1 Verdi è un colpaccio e anche Giuric a 2 perché a 2 è un calciatore che potenzialmente giocherà 25-26 partite anche a 30 se inizia a giocare bene col Sassuolo e giocherà lì comunque vicino alla porta e nel Sassuolo sappiamo che segnano molto i gol quindi Giuric è un ottimo acquisto secondo me a 2 poi Burchiano da quando è entrato e ha fatto l'attacco al posto mio ha preso Giroud a 63 Jovic 51 Lautaro Martinez a 102 Pedro 14 Bogat 12 e Quagliarella 5 abbiamo un tridente eccezionale abbiamo fatto un tridente fantastico con Giroud Jovic e Lautaro Martinez poi nell'eventualità al posto di Giroud possiamo mettere un Bogat possiamo mettere un Pedro oppure Quagliarella se sarà titolare cioè abbiamo comunque un attacco a posto che mi piace tantissimo forse uno dei migliori attacchi di questa Lega è vero che non abbiamo diciamo il grosso bomber diciamo immobile a 202 Lukaku e quello che è ma abbiamo ne abbiamo tre giocatori che potenzialmente possono fare Giroud 15 16 gol almeno Jovic lo stesso e Martinez lo stesso anche 20 gol Martinez perciò secondo me abbiamo un attacco che nell'insieme farà più gol di altri che hanno preso comunque giocatori importanti ma poi gli altri fanno 9-8 gol alla stagione poi adesso guardiamo la squadra di Odoriamola ha preso Onana Rui Patricio e Cragno in porta non ho capito questa chiamata per Onana e poi non ha preso Andano vi ci fosse crede diciamo che Andano ci perderà il posto ad Onana sì probabilmente a fine campionata a metà campionata forse sì o forse no non si sa ma col punto visto che hai preso Onana prendi anche Andanovic se prendi Onana secondo me rischi se non prende Andanovic e poi ha preso Rui Patricio 45 Cragno e Cragno spendendo secondo me un po' di più di quello che si dovrebbe spendere per i portieri poi abbiamo Hernandez Gosens a 47 Hernandez 63 De Vrij 16 Sopi 12 colpaccio questo va bello anticipo già e Boselle 3 Carlo Lut 23 Chiaracopoulos 3 e Der Macu 1 Hernandez e Gosens lascio a voi non commento neanche secondo me ci sta De Vrij 16 un bel colpo a 16 De Vrij Sopi 12 colpaccio e Boselle 3 Carlo Lut 23 ottimo colpo Chiaracopoulos uguale Der Macu cioè qui in difesa ha fatto veramente paura cioè Odoreamola ha fatto veramente una difesa fantastica e vi ricordo anche che c'è il modificatore quindi questa difesa secondo me è la migliore proprio in assoluto di questa lega poi al centrocampo ha preso De Kettler Basic a 9 Pereira 31 Ederson 13 quadrado 18 Soriano 5 Agudelo 2 6 d4 De Kettler secondo me 45 è troppo è vero che sarà potenzialmente il titolare del Milan solo a tre quarti ma è la prima stagione non lo so se farà così bene fin da subito quindi è una grossa scommessa io avrei speso un po' meno per lui sui 38 40 massimo Basic 9 ci sta tutto Pereira 31 ottimo colpo Ederson uguale quadrado 18 anche qui è un colpaccio perché quadrado 18 titolare la Juve un cacciatore che conosciamo molto bene che fa molti assist e anche gol Soriano 5 ottimo colpo anche questo perché Soriano è vero che nell'ultima stagione ha fatto male ma potenzialmente può fare comunque quei 6-7 gol la stagione Agudelo 2 ottimo 6-4 qui fantastici questi ultimi 3 ma anche prima comunque ottime scelte in attacco ha preso Correa 1 Orighi 27 Gonzalo 50 Colombo 4 Verde 20 Barrow 12 Correa 1 è eccezionale io non c'ero già in quel momento dell'asta ma lasciare Correa 1 non ho capito queste cose perché Correa comunque qualche partita farà e a 1 è veramente un colpaccio Orighi 27 ci sta tutto visto che Giroud abbiamo speso 63 Orighi secondo me nel corso della stagione diventerà titolare è vero che la prima stagione è Almina però questo è un bel colpo Gonzalo 50 secondo me è tanto perché è vero che Gonzalo Nicco ha fatto molto bene la stagione scorsa ma visto le altre cifre degli altri cacciatori 50 non lo so Colombo 4 ottimo Verde 20 ci può stare Barrow 12 anche qui può essere un bel underdog Barrow ci sta tutto poi abbiamo Ciccio 1-8 11 che ha preso Luis Maxime della Lazio nuovo portiere 42 ci può stare portiere titolare 42 ci può stare tutto forse quel pelino in meno però ci può stare Prove del 9 Rado 1 Lico Giannis 1 Carlos Augusto 12 Spinazzola 32 Parisi 6 Cambiaso 7 Agudelo 6 Vigna 1 Vasquez 1 Lico Giannis 1 è un ottimo colpo assolutamente Carlos Augusto 12 benissimo secondo me è il prezzo giusto Spinazzola 32 non lo so ho un dubbio grosso Spinazzola io auguro a lui di recuperare bene diciamo di cioè recuperare ha già recuperato ma di essere veramente protagonista non perché sono romanista ma auguro a lui visto l'infortunio di comunque riprendersi e far bene ma non so se sarà sempre titolare è un dubbio è una mezza scommessa però 32 ci può stare Parisi 6 ottimo Cambiaso 7 anche qui un ottimo colpo Agudelo 6 Vigna 1 e Vasquez 1 ottimi colpi questi qua mirati questi sono ottimi colpi perché sostituiscono appunto questi qua quindi benissimo poi abbiamo Milinkovic Savic 62 Zaniolo 33 Sabiri 27 Maldini 3 wow Luis Alberto 10 Udman 1 e Villar 1 Samarzic 1 Milinkovic lascio il commento a voi mi raccomando anche Zaniolo Sabiri ottimo colpo a 27 ottimo Maldini pure Luis Alberto pure perché Luis Alberto forse ha la mare del Sevilla addosso ma se rimane giocherà e anche se va via recupererà comunque tanti credit sul mercato Udman a 1 e Villar a 1 e soprattutto Samarzic a 1 mi fa male vedere Samarzic qui a 1 lo volevo io lo volevo io solo che non avevo più crediti per puntare su di lui ma Samarzic a 1 è un colpo fantastico perché secondo me giocherà tante partite e a me piace molto poi Immobile 202 Motta 3 Raspadore 25 Ibrahimovic 1 Sansone 1 e Lukman 1 Immobile 202 non ho capito come siamo arrivati a queste cifre perché Immobile 202 è tanto su 500 è tanta roba è stato il capo canoniero del campionato ma 202 per me ha speso troppo per Immobile perché se Immobile va male ha perso comunque qualcosa che poteva spendere per altri soprattutto come vedo qui altri attaccanti ma anche in tutta la squadra Motta 3 ci sta tutto perché Motta per adesso è il titolare forse perderà il posto a Pettagna ma ci sta Raspadone 25 un buon colpo molto buono Ibrahimovic 1 e Sansone 1 e Lukman 1 sono tutte diciamo grosse scomesse non so cosa dire su di loro se avesse risparmiato su Immobile prendendo per esempio anche un Lukaku oppure un Vlaovic a 160 avrebbe avuto più crediti per spendere per altri giocatori diciamo un attacco che è Immobile dipendente se Immobile non va bene l'attacco non va bene poi abbiamo Japiox che ha preso in porta Audero Montipò a 11 Vicario a 9 scelte molto precise per riempire le slot nel modo giusto avere titolarità ci può stare low cost ci può stare è una strategia poi ha preso Milenkovic Smalling a 23 Udoggi Udoge 26 Mele Maele 13 Voivo da 10 Medel 1 Casale 3 Bijol 1 Milenkovic non lo prenderei a me non piace sinceramente neanche a 0 non scherzo a 17 sicuramente no Smalling a 23 è un ottimo colpo secondo me perché è un calciatore che gli dà sicurezza l'ho avuto l'anno scorso e ha fatto bene Udoggi Udoge a 26 forse qualcosina in meno non lo so però un giocatore che fa bonus non lo so se ripeterà la stagione scorsa solo per questo Maele 1013 ci sta alla grande Voivo dallo stesso ottimo colpo Medel a 1 ci sta per a 1 anche se collezione come sappiamo cartellini Casale 3 ok Bigiola 1 anche lui scommessa ma ci sta Felipe Andreson 33 in centro campo Pasalic 41 Bayrami 35 Zambo Anguiza 4 Zalensky 3 Tonali 14 1 Zaccaria 1 Zaccaria 1 wow Felipe Andreson 33 ci sta soprattutto guardando le cifre uscite per gli altri centrocampisti sapendo che Felipe Andreson potenzialmente è un attaccante Pasalic lo stesso 41 questo è un colpo bellissimo colpo 41 Pasalic Bayrami 35 lo stesso mi piace molto questo è un attacco forte fino adesso Anguiza 4 wow Zalensky 3 lo stesso Tonali 14 sì molto buono molto buono perché adesso è infortunato ma quando recupererà giocherà scommessa titolare e Tonali può fare anche dei bonus De Roma 1 ottimo Zaccaria 1 ottimo perché comunque questi qua è vero che adesso sono molti critici su di loro però giocano in squadra importante e tante partite faranno e a 1 ragazzi a 1 non è niente poi in attacco Lukaku 170 Capuso 155 Occherecchia 13 Satriano 1 Di Francesco 1 De Serd Lukaku 170 ottimo colpo guardando il fatto che Immobile è uscito a 202 perché Lukaku potenzialmente insieme a Vlaovic sono questi qua questi tre qui i potenziali capo cananieri del campionato e secondo me ripeto Immobile 202 è tanto Lukaku 170 anche se si dividerà un po' i gol con Martinez però 170 può stare Caputo 55 quindi un ottimo attacco perché ha Lukaku e Caputo scommessa Occherecchia 13 va bene Satriano 1 di Francesco 1 di Francesco potenzialmente è titolare a 1 è un ottimo colpo e il De Serd non lo so di solito non lo prendo il De Serd quindi non lo so passiamo ad Alecera e in porta ha preso Milinkovic Savic Mere Marfella non ho capito bene le sue scelte in porta è la peggior porta della Lega poi ha fatto molto bene dopo però in porta non lo so non lo so tra Mere Milinkovic non ho idea vedremo all'inizio del campionato il calciomercato che deve finire ma è molto rischioso in difesa ha preso Bellanova 1 Scalvini 6 Rodrigo Beccano 4 Mario Ruiz 7 D'Ambrosio 3 Toloi 1 De Miral 9 Gym City 3 anche qui ha il risparmio assoluto tante scommesse non so se avrà tutti i titolari sempre Scalvini ha un'ottima presa secondo me a 6 alcuni non lo so se giocheranno quindi ho paura che Ale non lo so avrà un po' di difficoltà con la titolarità però per le cifre spese sono buoni colpi solo che non so se avrà gli 11 titolari se sarà in difesa soprattutto in questa lega dove abbiamo i modificatori non so se questa difesa andrà bene dovrà cambiare secondo me qualcosa nel mercato di riparazione il centro campo ha preso Miranchuk Valotti Zaccagni Barak Messisa 12 Lodot a 2 Politano 13 Sale Makers 2 Miranchuk 16 complimenti perché andata a Torino sarà titolare a 16 c'è stata la grande Valotti 10 lo stesso perché sarà titolare Zaccagni 35 un attaccante quindi ottima presa Barak lo stesso 35 pochissimo non ci potevo puntare più ormai per la mia strategia ma mi ha fregato Barak io avrei puntato anche 40 su Barak anche addirittura 45 quindi Barak 35 è una presa ottima Messisa a 12 non so cosa dire forse in quel momento dell'asse siamo impazziti perché Messisa comunque gioca lì in attacco è uno che fa molti gol quindi ottima presa anche questa Lobotka 2 complimenti chapeau Politano 13 Saleemers 2 cioè ha preso Saleemers 2 e Messisa 12 avendo comunque la titolarità del Milan in attacco cioè bravissimo a Lecera qui poi abbiamo scusatemi Raffaeleão a 90 Vlaovic 160 Muriel 73 Shomurodov 2 Cesai o Cesai 3 Kien o Kien 1 un attacco diciamo fortissimo perché ha Vlaovic e Raffaeleão che potenzialmente possono fare non lo so 35 40 gol anche di più cioè dipenderà dalla statunità di Raffaeleão anche Vlaovic secondo me almeno 24 gol li farà da non è possibile che non faccia almeno 24 25 gol Muriel è uno che può conquistare tante partite e sappiamo che segna tanto questo è un colpaccio anche a Shomurodov perché andrà al Bologna e secondo me sarà titolare almeno una decina di gol li può portare a casa Cesai non lo so cosa dire su di lui non lo so come giochiera la sua squadra è un dubbio ma è un'ottima presa 3 e Kien 1 come scommessa ci sta la grande poi abbiamo Simone Fiore che ha preso in porta Andanovic 50 Berisci a 11 e Carnesecchi a 1 questa è una porta lo stesso rischiosa perché Andanovic non so se tu non hai Onana in questa stagione specifica è un po' rischioso perché comunque Andanovic partirà titolare ma Onana a 25 non lo so cosa succederà ma probabilmente Onana prenderà il posto di Andanovic o comunque giocheranno tante partite entrambi non lo so Berisci a 11 ci può stare Carnesecchi a 1 uguale ma è una porta un po' rischiosa difessore Singo 29 Faraoni 40 Dunfries 50 Di Lorenzo 33 Olivera 6 Stojanovic 4 Luperto 1 Ghiglione 1 Singo 29 benissimo un bel colpo Faraoni 40 forse un po' meno per Faraoni ma ci sta tutto perché lui è uno che fa molti bonus Dufries 50 ottimo corpo secondo me perché farà una marea di assist e qualche gol lo farà Di Lorenzo uguale 33 va benissimo Olivera 6 Colpaccio Stojanovic 4 ci può stare Luperto e Ghiglione 1 alla grande come scommesse per riempire le ultime slot quindi bravo Simo Centrocampo Buonaventura Orsolini Torsved 4 Traorei Junior 9 Jazzy 2 McKinney 1 Pobega 1 Diaz 1 Faccio i miei applausi a Simo che ha aspettato il momento giusto per puntare ci ha fatto prima scanare prima e spende un sacco di soldi e poi ha preso a 1 questi giocatori eccezionale qui Buonaventura 15 colpo ottimo a 15 Orsolini pura 17 anche se Orsolini non sta facendo stagioni meravigliose gioca in attacco a 17 è meraviglioso colpo Torsved 4 giocherà titolare al Sassuolo e al Sassuolo i centrocampisti del Sassuolo di solito fanno molti bonus e lui è un abituato a fare molti bonus quindi colpo meraviglioso anche qui tra ore a 9 wow non so cosa dire continua a fare colpacci Jazzy 2 lo stesso titolare allo Spezia McKinney 1 Pobega 1 questi qua non giocheranno sempre ma comunque giocano in squadre forti e ha presi a 1 col calciomercato ancora in corso è meraviglioso anche qui e 10 a 1 cioè secondo me è stato il più furbo il più bravo a fare il centrocampo perché ha speso poco ma ha preso calciatori forti calciatori interessanti non ha diciamo quel boom quel calciatore fortissimo però potenzialmente questo centrocampo farà molti bonus bravissimo Simo in attacco ha preso Osimena 119 Caprari 30 Pinamonti 35 Zola 18 Cabral 10 Lasagna 12 un attacco mirato preciso ottime scelte anche qui non so cosa dire perché comunque avrà tanta titolarità qui Pinamonti che adesso è andato via dall'Inter e giocherà titolare Zola che secondo me si riprenderà farà bene Cabral anche lui è uno che entrerà in tante partite e se inizia a fare il Cabral che conosciamo da altri campionati forse prenderà anche la titolarità 10 è poco e Lasagna lo stesso che comunque partirà è una scommessa Lasagna perché ultimamente non sta facendo bene ma chissà qualvera una cosa potrà fare torno indietro perché ho saltato Babbo Fantacalcio scusatemi ce l'abbiamo qua ha preso in porta Magnan Mirante e Tatarussano ottimi colpi Magnan a 65 ci può stare perché il portiere tra virgolette poi il calcio ce lo dirà ma potenzialmente è il miglior portiere del campionato poi abbiamo preso abbiamo preso ha preso Babbo Romagnola a 19 Skrignan a 30 Bonucci a 23 Kolei a 4 Calabria a 23 Karzob a 12 Ehrlich 9 e Igor a 6 ottimi colpi ottima difesa come modificatore va benissimo centrocampo Fratese Kupmeiners a 25 Lukic a 22 Radonic a 19 Ruiz a 6 Zelinski a 20 Tamez a 4 Zulkovski a 2 Fratese Kupmeiners ottimi colpi perché a 25 sono entrambi i calciatori che potenzialmente possono fare tanti gol dico proprio tanti gol perché Kupmeiners l'anno scorso ha fatto molto bene anche Fratese possono fare ancora meglio in questa stagione quindi benissimo Lukic a 22 bene anche lui Radonic a 19 ok Ruiz a 6 secondo me è un ottimo colpo Zelinski a 20 lo stesso Tamez a 4 è un colpaccio assoluto perché Tamez è un calciatore importante Zulkovski a 2 lo stesso quindi Babbo diciamo che fino adesso ha la squadra diciamo secondo me la più equilibrata non è la più forte ma è la più equilibrata fino adesso poi in attacco ha preso Berardi 102 Lozano 15 Reb 19 Betto 30 Henri 19 Gabbiadini 1 forse qui in attacco poteva è mancato qualcosa forse è arrivato ormai in attacco che aveva pochi crediti secondo me e quindi non ha speso tanto e non ha diciamo delle punte veramente fortissime è vero che a Berardi che comunque quei 15 20 gol li può fare sarà rigorista del Sassuolo vedremo la stagione vedremo come sta fisicamente ma non è quella punta di peso che ti fa un sacco di gol che ti fa potenzialmente anche 30 gol quindi secondo me gli mancherà questo durante la stagione dovrà cambiare spesso gli attaccanti ma ci può stare poi abbiamo Bar Fanta Calcio e lui ha preso in porta Musso 29 Sportielo 1 e Seppe 1 anche qui è una porta low cost fatta molto bene perché ha preso il portiere dell'Atalanta ci può stare diciamo niente di eccezionale ma va benissimo in difesa ha preso Biraghe 35 Ferrari 6 Bastoni 20 Ibanez 7 Darmian 6 Kamenovic 1 Gatti 1 Kier 2 non so lascio a voi i commenti su questa difesa ha speso poco ha speso secondo me anche troppo poco per questa difesa o meglio non è che ha speso poco è che poteva puntare secondo me su un giocatore da più bonus anche se Biraghi rimane un colpo che potenzialmente la Fiorentina può fare molti bonus centrocampo Pellegrini 56 Chiesa 43 Lazovic 15 Brozovic 14 Vessino 3 Miktarian 15 Damsgaard 1 e Maggiore 1 vi ricordo che queste sono diciamo le mie impressioni ragazzi è quello che penso poi posso sbagliare sicuramente molte volte quindi mi raccomando lasciate nei commenti qua cosa ne pensate io do il mio parere critico di tutte le rose come vedete quindi se c'è qualcosa che vi sembra giusto o non giusto mi raccomando scrivete qui sotto centrocampo che mi piace molto Pellegrini chiesa va bene le cifre Lazovic lo stesso Brozovic pure Vessino che adesso non è più all'Inter giocherà molte partite Miktarian che entra sempre quindi c'è un colpaccio Damsgaard che va ad andare all'estero quindi recupererà dei crediti e Maggiore non lo so cosa dire su di lui lasciate un commento qui sotto in attacco ha preso Zappata 133 Abram o Abram 106 Zanimachi 1 Pellegri 1 Juric 1 Botei 1 non so cosa dire sull'attacco in realtà sono un po' indeciso su come diciamo valutarlo Zappata va bene 133 per Zappata non lo so se avrei speso visto che Vlaovic è andato a 160 non lo so ho dei dubbi ho dei dubbi su Zappata semplicemente su questo attacco qui Abram 106 ci sta alla grande è un bel colpo questo lo posso giudicare subito sono capaci di farlo diciamo Zappata non lo so sono indeciso non riesco a valutare Zappata 133 tutti questi altri colpi a 1 ci possono stare secondo me gli mancherà un po' un terzo attaccante di peso un po' più forte che può dare cambio insomma sono tutte scommesse le altre quindi fanno un po' più fatica ma non so in che modo lo vuole giocare quindi secondo me va bene anche così secondo me le è mancato qualcosa non lo so qualche idea io sono un po' indeciso su questo su questo attacco e per chiudere l'ospite di questa asta il fantastico Michele di Fantagone con golini 20 in porta Terracciano 1 Falcone 5 e anche qui colpi mirati spese 0 praticamente quindi ha fatto bene difesa Rezza Oreca 2 Bremer 38 Valeri 16 Di Marco 11 Bastoni 29 questo è il bastoni dello Spezia Zappacosta 20 De Silvestre 7 Atebaure 16 una difesa diciamo da 6 può essere buona per i modificatori penso di sì Bastoni mi piace anche De Silvestre 7 se fa una buona stagione è uno che fa anche qualche gol Zappacosta infortunato non so quando tornerà ma a 20 ci può stare forse un po' meno forse 10 15 Bremer ti dà sicurezza quindi comunque è una difesa comunque che la sufficienza la posso dare tranquillamente centro campo Sensi a 15 Barrella 42 Malinovski 42 Strefezza 20 Lopez del Sassuolo 5 Icone 19 Elma 6 Benasser 4 iniziamo da Benasser 4 che ha un colpo meraviglioso a 4 Benasser è regalato proprio cioè proprio regalato lo volevo prendere anch'io solo che a quel punto non potevo più puntare per la mia strategia Benasser a 4 è fantastico Sensi 15 pure un bel colpo Barrella 42 invece so che avrò comunque molte critiche in questo video ma secondo me Barrella 42 è pagato tantissimo cioè Barrella è vero che è un ottimo calciatore ha vinto gli europei lo conosciamo bene mi piace tanto anche se sono milanista mi piace tanto l'Inter questa squadra dell'Inter è forte e Barrella mi piace vederlo giocare però Barrella 42 non è che fa così tanti assist così tanti bonus farà qualche assist qualche bonus lo farà gioca all'Inter però 42 con tutte le cifre che sono uscite prime non lo so ho qualche dubbio Malinovski invece 42 ci sta alla grande perché può diventare anche il rigorista della squadra è uno che può battere qualche punizione è uno che fa gol un po' dappertutto giocherà titolare adesso sulla trequarta addirittura in qualche modulo o durante la partita può andare a giocare anche in attacco Malinovski è un bel colpo a 42 streffezza 20 lo stesso so che molti non lo conoscono ma streffezza 20 è un ottimo colpo perché giocherà praticamente in attacco Lopez 5 ci può stare Iconea un bel colpo a 19 Elma 6 sì io non l'avrei preso però a 6 ci può stare e Bernassi ripeto un colpo meraviglioso in attacco ha preso Bonazzoli 23 Deolfeo 47 Sanabrio 20 destro 22 Arnaldo V53 Giacco 12 complimenti per l'attacco perché comunque la titolarità ce l'avrai sempre non avrai problemi a fare la squadra in attacco avrai quelle tre punte se vuoi sempre fisse tra Arnautovic Deolfeo e Bonazzoli non sono calciatori che ti possono segnare 30 gol a stagione ma se li vai a sommare tutte e tre ti possono fare tanti gol e questa è la cosa importante del fronte a calcio non è avere soltanto un calciatore che fa come Immobile a 202 ma è avere tanti che ti possono segnare in tante partite è vero che se Immobile fa da mati ti fa 40 gol vuol dire molto ma è poco probabile se tu hai per esempio un Deolfeo che ti fa almeno quei 15 gol 16 gol a stagione Bonazzoli che fa 12 15 gol lo stesso e Arnautovic che ne fa questa stagione anche 20 cioè hai comunque tanti gol Dzeko può entrare sempre destro giocherà titolare quindi capito Zanabria lo stesso giocherà molte partite sono quasi tutte titolare quindi lui ha fatto secondo me un attacco mirato senza quella punta stratosferica ma un attacco che può segnare tanto mi raccomando ragazzi iscrivetevi al canale lasciate un commento qui sotto su quello che pensate delle mie valutazioni posso sbagliare anch'io non sono perfetto quindi mi raccomando lasciate un commento qui sotto su quello che pensate di queste rose se sono forti qual è la rosa migliore le scelte che ho fatte sono quelle giuste di giocare con questo attacco mi raccomando iscrivetevi andate anche a vedere l'abbonamento qui che abbiamo sul canale VIP link in descrizione Fanta Calcio Pro e un bel like per aiutarci a crescere un saluto a tutti e buon Fanta Calcio ciao